Esco e controllo, guardate bene, non vado a fare la presa diretta che non esiste, vado spesso e rifiuto questo. Io da qui scivolo, lo devo io e lo controllo alla fine. Poi da qui mi sposto sul lato posto, ottengo la coiezione e controllo la tendola. Attacco le maniere. Io prima cosa, esco e metto un protezione, la mano è una spada che cade dall'alto, che mi fa notare il suo calcio, mi viene, entro subito sotto, da qui lo spingo, se voglio metto anche la gamba a compasso con la sua sotto e porto in ruptura. Allora, attacco su e ril su. Io faccio questa l'occhia palata in modo da costringere lui a esporsi in avanti con il busto e con il minuto. Attenzione, da qui è sembrano due movimenti, in realtà si deve solo due movimenti, ma si deve sentire un movimento solo che subisce. Lui attacca, uno, due, e lì. Stesso principio che abbiamo fatto vedere prima, per deviare e entrare in avanti. Mi viene, uno, e io lo afferro subito. Da qui inizio a ruotarlo, interbongo la gamba, lo faccio cadere e anche qui volendo porto in ruptura l'articolazione.